questo è il palazzo soggiorno con angolo cottura balcone per andare qua al terrazzo bagno con vasca camera patrimoniale terrazzo collegato al balcone del soggiorno vista lettuno terrazzo grandissimo che prosegue in alto balcone posto ripostiglio caldaia scala esterna è tutto caldaia era plato sta è tutto è tutto faste �